Non siamo ancora al tutti contro tutti, ma qualcosa di simile sta accadendo nel centro-sinistra che sostiene il governo regionale. Negli ultimi giorni sono arrivate in ordine di tempo le dichiarazioni del coordinatore regionale dei popolari con Emiliano, Totò Ruggeri, con l'invito rivolto al segretario regionale del PD, Marco Lacarra, di ripristinare un clima sereno tra i movimenti civici e i democratici. Erano stati gli atteggiamenti avversi, per dirla con le parole di Ruggeri, del PD nei confronti dei movimenti civici, tutti espressione del presidente Emiliano, a far suonare il primo campanello d'allarme nella coalizione, con Marco Lacarra che prova a smussare i toni, ricordando di aver partecipato con l'attuale commissario ad acta del partito, Francesco Boccia, alla presentazione della federazione delle liste civiche propossa da Emiliano. Ancor prima erano stati i consiglieri regionali del gruppo con Emiliano a chiedere al PD di abbassare i toni contro le forze civiche presenti in regione. A rendere ancora più incandescente il clima nel centro-sinistra regionale, sono arrivate le parole del segretario pugliese di sinistra italiana, Nico Bavaro, partito presente in giunta regionale, ma non in consiglio, dal quale è arrivata una nuova bordata al presidente Emiliano. Sulle amministrative, Emiliano è intervenuto in modo netto, come se volesse fare il segretario dei partiti, le parole che hanno fatto salire la temperatura nel centro-sinistra. Il riferimento al caso Barletta, dove il civismo di Emiliano ha di fatto preso il sopravvento sul PD nella scelta del candidato sindaco, tagliando fuori 5 stelle e sinistra italiana, è molto più che sottinteso. Le dichiarazioni di Bavaro, però, non sono state digerite dal capogruppo del PD in consiglio regionale, Filippo Caracciolo. Serve una immediata verifica di maggioranza, anzi la chiediamo in tempi brevi, dichiara. La sinistra italiana è stata valorizzata da Emiliano con la nomina di un assessore, senza che ci siano consiglieri in assemblea, ricorda Caracciolo. Sono immotivate le critiche al presidente, aggiunge, e sono inaccettabili le accuse rivolte all'intero consiglio regionale di essere la casa delle libertà che fiancheggia la destra su importanti materie. Il tutti contro tutti è appena cominciato e si andrà avanti così sino al voto amministrativo di giugno.